Grazie a tutti. Informa che la circolazione tra le stazioni di Chiusi, Chianciano Terme e Terontola è interrotta per problema tecnico a un treno di altra impresa. I treni regionali potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Siamo al traffico urbano di Firenze e da quest'oggi sosta gratis per due settimane in 14 autori messe e private nel centro di Firenze. L'elenco completo sul sito del Comune di Firenze. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.